E rieccoci in studio per la pagina sportiva. Apriamo non con il calcio ma con una bella notizia che interessa l'atleta paganese Daria Dercac che ieri è stata protagonista durante la prima giornata dei campionati italiani assoluti indoor in corso a Padova. Nel triplo donne si è giudicata la medaglia d'oro con un salto di 13,84 metri battuta a Simona Lamantia che era la favorita della vigilia che si è classificata seconda. Sono molto contenta della vittoria ma soprattutto della prestazione ha dichiarato a fine gara la giovane Daria. Al Palace Patavino l'atleta paganese si è giudicata il titolo italiano ma ha anche conquistato il primato personale. Ed ora parliamo di calcio sconfitta al menti di Castellamare di Stabbia per la paganese di Mister Sottil. Una rete per tempo e gli azzurro stellati salutano amaramente la trasferta contro la Juve Stabbia. La partita è terminata 2-0 grazie ai guizzi di Gidagi e di Di Carmine. Ascoltiamo i protagonisti.